state riscontrando un problema del genere su fortnite come potete vedere fortnite game athena si è proprio crashato proprio tutto il monitor perché col spegnere il monitor tenendo fortnite attivo e accendere di nuovo e monitor mi è successo questo perché volevo togliere così un'interfaccia di nvidia che si era bloccato qua in alto a sinistra e ora il monitor mi è rimasto così quindi in questo caso per risolvere tutto non mi resta che spegnere di nuovo il monitor e accenderlo e poi fare una riparazione completa su fortnite quindi in questo caso come dicevo il fatto del monitor che potrebbe non essere compatibile proprio per il fatto che non ha una risoluzione adatta sul tuo gioco di fortnite quindi è possibile risolvere il problema attraverso il pannello di controllo di nvidia per quelli che hanno una scheda grafica nvidia oppure dopo lo andiamo a fare direttamente sul nostro sistema operativo ovviamente ed eccolo qua andiamo direttamente su modifica della risoluzione ed eccola qua questa è la risoluzione più adatta che io uso sul mio monitor velocità di aggiornamento 165 hertz impostazioni colori nvidia metto solamente questi qua e ora andiamo direttamente su regola dimensioni e posizioni del desktop questa invece la parte più importante quindi in questo caso imposta così lo schermo intero proporzioni metti così schermo intero e risoluzione metti quella corrente la tua sul proprio monitor quindi questa qua e fai applica una volta fatto chiudiamo un attimo il pannello di controllo e adesso andiamo direttamente nella cartella di fortnite tra i puntini gestisci qui su opzione di lancio metti trattino di 3d 11 lo avv in modalità di rendering dare che tx 11 e ora entra così nella cartella di fortnite fortnite game binaries un 64 scendiamo fino a giù fino a trovare così il fortnite questo qua del punto è così quello che pesa di più 323 megabyte tasto destra sopra mostrate opzioni proprietà compatibilità ed eccolo qua disabilità ottimizzazione schermo intero esegue questo programma come amministratore e fai ok se no potresti direttamente cancellare questi tre file fai elimina e fai una verifica basta fai una semplice verifica verifichi così il gioco se non dovesse funzionare puoi sempre andare qua sul tuo profilo vai direttamente su impostazioni scendi fino a giù fino a trovare così assistenza vai su assistenza e chiede aiuto a epic games oppure in alto a destra nella schedina ti ho lasciato così un altro video su come risolvere il crash report di atena che l'ho fatto due settimane fa ti consiglio di guardarlo che è una guida completa su tutti i passaggi e ora non mi resta che avviare il gioco fortnite va sempre avviato su epic games e mai sul desktop quindi avviate il gioco in epic games e aspettiamo grazie a tutti il gioco si sta connettendo quindi connessione in corso senza nessun problema riguardo alla schedina crash report atena quindi il gioco sta andando ed ecco qua fortnite se non dovesse funzionare chiudiamo un attimo fortnite entriamo così su esegui qua sopra vai a scrivere %appdata % entriamo così nella cartella di appdata appdata local scendi fino a giù cancella direttamente la cartella di fortnite game ed eccola qua cancelli così la cartella di fortnite game andrà a fare un ripristino nelle impostazioni quindi dovrai rimettere di nuovo da capo le impostazioni però è un bene se cancelli questa cartella è come se aprissi fortnite per la prima volta quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao ciao